Non c'erano niente perché l'ha lasciato tutta l'uomo Però la rezzatina gli hanno fatto un cazzo Ah sì, perché alla fine se si incerano lì per i tuoi Ma io gli ho detto, ragazzi, va che se arrivano di te, mi beccano mai quella roba addosso io, ragazzi Dipende da chi ho davanti, da come mi guarda, come mi parla, le prime due parole che escono nella sua bocca Capite che è un ragazzo a parlare in quel momento Perché se mi trovo uno rispettoso e dico, salvo, mi dai i documenti, salvo, togli i documenti Appena mi guardano mi fanno lo sguardo Sì Sì Ho finito lavorare, sono stanco, fumo per saccare dalla giornata di lavoro Non faccio nient'altro di male Se butto tutto quanto, c'è ragione Non mi lamento Da come potete fare E in quel momento gli ti rispettano Ah, veramente? No, niente, allora dai, finiti pure, vai via Che succede Ma magari ti dico, dammela 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 Dammela